La Sicilia 2018, la Sicilia 2030, come saremo fra poco più di dieci anni? Entriamo dentro le classi, parliamo ai giovani e diamo a loro voce e possibilità di esprimersi. Qual è quindi il futuro possibile, il futuro che immaginano? I ragazzi per una settimana si sono incontrati, hanno discusso, hanno buttato fuori quello che nemmeno sapevano di avere dentro, ma forse perché nessuno aveva chiesto loro prima d'oggi di esprimersi su quattro temi grandi, forti, importanti, hanno lavorato all'infuori delle ore scolastiche a realizzare l'idea di quello che sarà il loro domani, quindi un domani sempre più vicino, un domani chiesta di oggi. Domani sul nostro quotidiano due pagine dedicate a loro, parola agli studenti e in un filmato tutto il loro backstage.